Aggressioni verbali ma anche fisiche. Sempre più spesso i medici e gli operatori sanitari si trovano a dover fare i conti con situazioni di estrema difficoltà. Il personale non ha particolari protezioni nell'esercizio delle proprie funzioni. Un fenomeno in continua crescita, a dirlo è il presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, Luigino Guarini. Dalla prima aggressione di cui ho memoria, che fu un fatto di cronaca, l'omicidio della collega Paola Labriola in settembre 2013, ci sono passati 5 anni, gli episodi di violenza su operatori sanitari e in particolare contro i medici si sono aumentati. L'allarme è lanciato ieri dall'Ulse 2 Marca Trevigiana. Il direttore generale Francesco Benazzi aveva parlato di 300 segnalazioni di aggressioni nel 2017 ai danni del personale da parte di pazienti e familiari. Siamo preoccupati, spiega Guarini, ci vogliono interventi per tutelare chi lavora nell'ambito sanitario. Sarebbe auspicabile ripristinare le postazioni di polizia, delle forze dell'ordine all'interno dei pronto soccorso, degli ospedali. Fondamentale comunque sarebbe cambiare la legge. Mi risulta che la FNOMCEO, la Federazione Nazionale, sta seguendo con particolare attenzione l'iter di due progetti di legge che vanno a proporre l'inaspiramento delle pene in caso di aggressione contro un operatore sanitario considerandola come un aggravante perché viene equiparata la figura dell'operatore sanitario a quella di un pubblico ufficiale. Ad essere più a rischio sono i camici bianchi della Guardia Medica, più isolati. La videosorveglianza può essere indubbiamente un aiuto, come sempre i conti devono essere fatti con la disponibilità di mezzi. Nel senso che purtroppo i medici e gli operatori sanitari stanno pagando sulla propria pelle e la difficile situazione in cui versa il nostro servizio sanitario nazionale. Importante sarebbe anche educare i cittadini al rispetto di chi lavora. Uno slogan sembra banale ma non lo è. Il nemico è la malattia e non il medico. Il 13 settembre sarà la giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari.